Musica Non lo so mentre... Eh! Aspetta Vai Qui l'opertura Ehi! Qui l'opertura Oh che vero lonti, guarda Guarda che lontino non c'è Eh? Non posso? Eh, ti ho visto No, sono 40 anni che andando per quanto fa parte la camminata ... 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 Grazie, grazie. Grazie. Allora, cominciamo a far parte di presa, eh? Eh, lo so, mi sa, mi sono partone. Abbiamo approfittato subito, da Paesani proprio. Eh, la di forno non hai il parco. Eh, la di forno, la di forno. Dove. Ma non è niente a barri e c'è niente, che cazzo, la di forno. Ah, qua non è niente. Sto per andare a parlare di soli, mi sarei più a parlare. Anche la fina morte è aperta, però. Sì, a Cagnata, la terribile chiave teneva sia l'alletta, l'alletta, ma... D'unella? Eh, l'alletta, l'alletta. No, io sono andata, perché chiedevo io, io ci stavo. Scusate, sì. Scusate, sì. Scusate. Scusate, sì. Scusate. Scusate. Scusate qui... la chiesa è chiusa ma non va bene ma non va bene ma non va bene Il mio di naga si è giurito, perché non lo deve dire, da te vedi, da te vedi, da te vedi naga si è giurito. Il mio di naga si è giusto. 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 il mio di naga si è giusto.